Oggi vinciamo sempre noi, vinciamo sempre noi E Giuseppe salta con noi, e Giuseppe salta con noi, e Giuseppe salta con noi, e Giuseppe salta con noi. Discorso, 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 discorso noi. Anche dopo le primarie eravamo... dove eravamo? Un po' più sopra, e questo è un po' più sopra. Vabbè, le parole, insomma, difficili da trovarmi in questo momento. C'è stata una cavalcata che è durata più di un anno, una candidatura che è cresciuta con un sentimento popolare, perché è grazie al popolo e ai cittadini liberi che noi siamo tutti gli addirittori. Un'oltre di 60%. Vi ringrazio tutti, da domani ci rimetteremo al lavoro. Per Reggio non abbiamo mai smesso di farlo. Da oggi lo faremo con un'altra veste, con la crescita dei 30 anni, con la voglia, con l'energia, con la passione per questa città che è davvero viscerale, ha bisogno di ognuno di noi. Vogliamo che voi ci stiate accanto in questo percorso come avete fatto fino a oggi, perché noi siamo qui veramente soltanto grazie a tutti i cittadini che hanno deciso di restituire orgoglio e dignità a questa città. A proposito delle cose da cambiare, visto che noi guardiamo in grande e non ci riacciono i diminuitivi, a tutti i cittadini, a tutti i cittadini, a tutti i cittadini.